L'eredità che penso di lasciare a chi prenderà il mio posto, spero sia quella di un partito dei moderati diventando maggioranza politica nel Paese. I moderati sono da tempo maggioranza numerica, devono capire che per il loro futuro, per garantirsi la democrazia e la libertà, devono trasformarsi in una maggioranza politica organizzata che possa conquistare una grande maggioranza in Parlamento, che possa avere un governo fatto tutto di propri ministri, col quale finalmente arrivare a cambiare l'assetto istituzionale del Paese, quello che fino adesso dal 1948 non si è riusciti a cambiare, proprio perché non c'è stato un solo partito che avesse la maggioranza e che lo volesse. Ci sono stati sempre i piccoli partiti, nei 50 anni della prima Repubblica e ancora con le coalizioni di questo secondo periodo, che hanno vietato per propri interessi particolari che questo accadesse. Ci sono in Italia altre fondamentali riforme da fare, la riforma della burocrazia, che ci costa più del 30% rispetto alle altre macchine burocrate degli altri Paesi, la riforma del fisco, questo fisco così com'è non produce nulla di buono per far risalire il PIL, per andare verso lo sviluppo, è importante ridurre la pressione fiscale. E infine c'è la riforma delle riforme, che è la riforma della giustizia. Solo con una grande maggioranza, come ho cercato di spiegare, e con prima di tutte la riforma della Costituzione degli assetti istituzionali, si potranno fare anche le altre riforme.